Ora si, ragas è iniziato l'evento, raga, guardate, è iniziato già, è dall'inizio che è così, ci abbiamo anche i balli che non abbiamo mai avuto, ci sono balli, io mi prometto questo, per non farli, per non raccecare, per fare vedere l'evento metto tipo questo qua, raga, non ci credo, fighissimo! Troppo figo, troppo figo, che cos'è, è tipo un occhio, troppo figo, raga, oh, ma cos'è, cos'è, what? Raga, è figo, però, non posso metterlo sul computer, raga, no, raga, cosa è successo? Io ballo, basta. Io ho anche un po', ma non posso capire. Guarda, 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 guarda davanti, guarda, cos'è? Ma cos'è? Stai ancora. La conosco, bravo. Che fighissimo, questo evento. Miria, vieni, guarda l'evento. Miria, guarda l'evento di Fortnite. Fighissimo! Cos'è? Fighissimo! Fighissimo! Facciamolo screen, faccio lo screen io. Fighissimo, raga, cos'è, questo evento, fighissimo. Stai cambiando Fortnite. Questo è un cambiamento di Fortnite. Stai cambiando Fortnite? E ci credo, cioè, guarda. C'è un gioco di Fortnite. Fighissimo, Gabby, bisetti? Gabri? Bisetti? Bisetti, ok. Ma sì, guarda, ora non so dove sono. Sì, pure sono sotto delle cose. Ma io sto rimpazzando. Sì, sto... Ma dove sta andando? Fighissimo. Troppo figo. Ma questo non è più forte. Troppo bello per essere Fortnite. C'è, guarda. Mi senti? Bravo. Bravo, mi senti? Bravo. Ok. C'ho anche i balchi, io non ce l'avevo. Cos'è? No! Ma tu... C'è lo screen, no? Mi sento di Fortnite. Mi sento di Fortnite, ecco. Mi sento di screen. Mi sento di screen. Madò. Tutti questi screen, ora me li prendo. Fighissimo. Madò. Wow, le giostre. Oh, biglissime. Toc'igredo. Biglissime. guarda cos'è delle giostre è del fuoco che fastidio sono le sue gambe cosa succede? sento la musica a strada guarda tutte le cose che arrivano no raga cos'è Fortnite? è troppo figo siamo sicuri che questo è Fortnite? non ci credo a stravolta è gioco questo evento ma è bellissimo come vuoi dire che fa schifo Fortnite? è troppo figo ma cos'è? mi copia che fa lo stiamo indone secondo me questa è la mappa quella davanti di noi tutti gli oggetti che saranno messi mi copia che ci siano indone ma ho il personaggio colorato what? è caduto fra mi senti? perché siamo dentro l'acqua? perché non stanno nuotando io anche c'è lui no vabbè io posso fare i balli più tanto? sì cosa ahah bello bello forte questo sì che è un gioco di più a me piace un evento si è già c'è nel negozio con un po' di schienzi solo wow fighissimo eh Simone si appesso oddio qua Simone li manda poi il video ti mando i video su whatsapp e le romandi guarda come si muove il personaggio guarda come si muove il personaggio ci si cos'è? fra mi senti guarda la mappa bellissimo Ma dove stiamo andando? Ma io sto camminando da fuori Oddio, oddio No, ora lo sto camminando io Ok Adesso Ma io stacco due secondi Ma ma è Ma tu Ti puoi scendere il corpo? È troppo figo Ma mi senti? Sì, mi senti? Oh my god Ma l'hai rispondato Mi ha lanciato ora Anche a me Mi ha fatto la foto Cos'è? Passiamo nello spazio Fra, fra, io sto fatti Quanta skin Screenshot Io sto uscendo dalla mappa Madonna Cos'è forno? È bellissimo È un gioco Questo ha cambiato il gioco Solo per costare l'evento È bellissimo Quando a me stai cambiando il gioco? Ma non mi ti chiedo che non cambiate pass ora? Perché di solito quando cambiava Cioè con l'evento Fai l'evento si Vabbè io però ho preso gli ultimi 100 p-back Ho preso dei p-back Ho preso appena 100 p-back Anzi No ma tu sei l'evento No ma tu sei lì Sì io sono qua Non vedo nessuno Ci sono solo io È lui È questa sfera Che sta scoppiando davanti di me Che figo Ma ma allora vedo questo Sì sì è finito a fare tutto Si può tornare nella nuova mappa Fra non ti sento con sto casino Fighissimo Oh lei la fa prolla Fra ti senti Ho cambiato Fortnite Lo sono giunto Che schifo Siamo in partita No ma mi sa che ora la giungono dopo che moriamo Infatti guarda la zona Fra ma siamo in partita E siamo in squadra Ciao fra Io non c'era Ciao Ciao fra Ciao Sì ancora quel ballo Io non ce l'ho quel ballo Non lo dà una vita Ma cosa è successo? Tutti questi ci sono delle per farle Ma vabbè E mi sa che Cuttiamo Cuttiamo O no? Ma è bello Cioè Dopo questi eventi Secondo me è bello Secondo me ora devono fare un aggiornamento Però c'è Per caso Simone che non c'era Oh ma io gli dico Li mando i video Li mandi i video su whatsapp Te lo mando io Io colpino i video Ma dove sei? Qua Ho ammazzato uno Ho ammazzato uno Ma dove? Cioè questo è figo Secondo te è stato bello solo questo evento Questo evento Ma non l'ho mai visto uno così Questo evento Un evento super figo così Non l'ho mai visto Un evento bello Io mettere Il momento bello è stato nella prima season Non mi ricordo Quale è il primo evento La prima season Nel tu non c'eri Io l'ho visto da Anthony Fra mi senti? Ok si Posso parlare Raga Sì Perché mia mamma L'ho impazzita Facciamo un film Mia mamma L'ho impazzita E qua Ma tutto lo shop Questo pass E' Gabriele Chi te lo scuola Ti è salutato Sì con uno conosce Un conosce a Gabriele Gabriele parla Ciao Ora ho capito chi sei Ora ho capito chi sei Con la tua voce si riconosce Allora vado a raccontarmi Ci sono Vabbè Prendo Prendiamo Non è qua Ti devo tirare Fra Sì sono io Tu stai là Le banane Aspetta Dove sei Dove sei Guarda Il detto brano Che ci hanno regalato A me Regalato anche le mimetiche Che so queste Anche questo detto brano A tutti Trama Facciamo abbandonare Si ma più Possiamo abbandonare Cioè Abbandonare Abbandoniamo Vediamo Vai Io abbandono Io abbandono Abbandoniamo Comunque raga Il video si cresce qua Avete visto l'evento Che c'è Vediamo se la lappa è cambiata E questo sembra Ora resta Fino a quando La giornamento Credo Eh sì Questo sembra Però ancora no Ok Ma dovrò E' bellissimo Questo evento E' stato bellissimo Sostante che i balli Non li possiamo Non li possiamo dare I balli Era per se ti rivelavano Un ballo Quello la Quello la Comunque raga Abbiamo detto Un pochino Carica E vediamo se Il campione della mappa L'hanno dotto Anche creativa L'hanno dotto Stai facendo il video No Vabbè Poi ci sono anche le foto Oh Ci passa ancora Non c'è finito Che cool Guarda Guarda Che cos'hanno Questa Vabbè Forse hanno messo No Evento live C'è scritto E basta Stromi Ci sono Nelle eventi C'è scritto Evento live Buongiorno Ma c'è finito L'evento Sì Però ti dici Sempre evento Ma c'è live No Solo il video Perché la live Non me la fa Fra Mettiamo il blog Vediamo se È fatto Se si è fatto La Si è cambiata La mappa Non credo Però Ho fatto Verifico Degli aggiornamenti Ma stai parlando Se stai parlando Non ti sento A partire che devo caricare Il mio è anche un percento Un percento Infatti lo carico Qua Lo carico E quando posso giocare Se domani posso giocare Se lo gioco a mia sorella Giochiamo Possiamo giocare A partire Possiamo giocare Mia sorella Ha detto Possiamo giocare A kid In 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 Tu e Lui Abbiamo due Playstation Soltanto Da sotto Metti pronto Metti pronto Vediamo la mappa Se è cambiata Cosa? Metti pronto Vediamo se la mappa È cambiata Vedo mettere Pronto Pronto Poi ti ho scritto Ricerca Gli aggiornamenti E io non ho fatto Cioè Ma non credo Vediamo se è cambiata La mappa Se è cambiata No no Lo capo Non è cambiata C'è anche Astro Romical Tornè Vabbè Comunque c'è scritto Tutte le La playstation Abbandoniamo La playstation Pantale Modalità Creativa E partire Personale Sono al momento Disattivati E tutto Disattivato L'unica cosa Che è attivato È il L'hanno fatto No C'è scritto Anche di sotto Non credo Ancora Sarebbe Troppo Figo La creativa L'hanno disattivato Per questo Mi sa Ma poi Mi dai Caso poi Le mandi Il video Che ti mando Ciao Ti mando Un video Poi Io Mero 800 Mi bacco Cosa? Cosa Vedi E vediamo Non credo Dopo che finisce Il livello Per tutti Deve finire Il livello Ancora Per gli altri Che ci sono entrati Di nuovo Che entro Su Fortnite Secondo me È cambiato No Ancora No Ancora Ancora Tutta la creativa Tutto L'hanno Dotto Forse Ci sono Nove cose Non credo Non credo Forse Deve Fare L'aggiornamento Pro Che vi Vivo Bravo Comunque No Te l'ho Desso Non è Cambio Niente No Niente Facciamo Abbandono Facciamo Ok Comunque Ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video Fra Ma abbiamo Finito Fra Fra Mi senti Ok Sì Che c'è Ma abbiamo Finito Di giocare Come Possiamo Gioca Ma tu Ce l'hai Di 35 No È che Però Nel pass battaglia Nella mappa Ti segna Che c'è Ancora L'evento Ma Non credo Sì Ti dice Ancora Che c'è L'evento Ma se Ci centriamo C'è sempre L'evento Lo stesso Lo rivediamo L'evento Come Ci fa Ok L'ho messo Comunque Ragazzi Il video Ci vediamo Al prossimo Video Pubblico Su YouTube Faccio una piccola Clip Di tutte le Foto Che ho fatto Ciao Ciao Ciao